Massimiliano Cagliazzo ha deciso di abbandonare la recitazione per dedicarsi a tutt'altro, cambia totalmente strada tra i pianti dei fan I fan di Massimiliano Cagliazzo devono affrontare un'altra brutta notizia, dopo l'annuncio del suo addio a mare fuori, ecco che arriva la notizia del suo abbandono della recitazione. Sembra incredibile, ma è proprio così, dopo l'abbandono del set di mare fuori, adesso l'attore ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e cambiare completamente strada I fan stanno già impazzendo.Interpretando Carmine l'attore ha raggiunto una grande notorietà, ma il suo personaggio era arrivato alla fine del suo percorso nella trama e gli autori hanno deciso che è stato meglio così Una grande perdita, ma mai quanto il fatto che Cagliazzo ha deciso di cambiare proprio strada Nessuna speranza di rivederlo in un nuovo ruolo, ha già deciso Mare fuori.Massimiliano Cagliazzo è diventato famoso al grande pubblico interpretando il ruolo di Carmine, uno dei protagonisti della fiction di successo Mare fuori Pur avendo commesso azioni violente, Carmine non condivide i metodi criminali della sua famiglia e ha saputo sfruttare la sua presenza nell'istituto per crescere e capire quale fosse la sua strada È così che si conclude la sua storia, con un riscatto potente che ha emozionato il pubblico Se già questo non aveva sconvolto i fan, ci ha pensato il suo annuncio di abbandonare la recitazione per dedicarsi a tutt'altro Chi sperava di vederlo di nuovo in un film o in una serie rimarrà deluso, ormai l'attore ha scelto di cambiare strada e non tornerà indietro Cominciate ad accettare la notizia.Uno dei programmi più attesi della prossima stagione televisiva è Ballando con le stelle Lo show di Millie Carlucci è ormai una delle trasmissioni di punta della RAI e i telespettatori non vedono l'ora di scoprire chi saranno i prossimi concorrenti Ebbene, proprio tra loro pare che ci sarà anche l'amato Massimiliano Cagliazzo La sua partecipazione è praticamente certa e manca solo l'annuncio ufficiale da parte della conduttrice del programma L'attore quindi ha deciso di mettere in pausa la recitazione, solo momentaneamente, per mettersi in gioco nella danza Sicuramente i suoi fan saranno contenti lo stesso di vederlo in nuove vesti E per la trasmissione è proprio un bel colpo considerato che l'attore è molto seguito Certo, qualcuno avrebbe preferito rivederlo in nuove produzioni a fare ciò per cui ha talento Ma sarà interessante vederlo in un nuovo ruolo e sicuramente riuscirà a stupire tutti Non ci resta quindi che attendere l'annuncio ufficiale e attendere l'autunno per vederlo all'opera Grazie a tutti Grazie a tutti